Signore, lei con il cappello, mi sente? Mi sente? Tenga il cappello! Uè, biondino, biondino, sono qua, biondino! Cosa prega davanti ai biscotti? Sono qui, qui, qui! Sono la bottiglia di vetro! Di vetro! Prima era un vasetto di capperi, poi una bottiglia d'olio e adesso è con me qua! Ma si è stato anche questo prima? Che bel cane! Cos'è una pecora con l'attaccatura bassa? Qui, davanti a lei! Lei, lei, un vestito d'anziano! Io non divento mai un rifiuto, capito? Posso essere riciclato infinite volte per produrre nuovi contenitori all'infinito e all'infinito e all'infinito! Ciao, bambina! Come ti chiami? Greta! Greta! E quello lì che è tuo nonno? La vedo spaesato, sono qua! Ma lo sapeva lei che noi del vetro siamo i campioni del mondo del risparmio di energia? Di emissioni di CO2, di materie prime, lo sapeva! Aspetta un attimo! E io non ho capito proprio! Ho detto che di vetlo! Sei il vetro! Con la voce di Diego Batantuono! No, sono Batantuono con la voce del vetro! Però sei intuitiva! Lo sai perché il vetro è il contenitore preferito in tutta Europa? Perché il materiale è ecologico per definizione! Totalmente riciclabile! Quando ti ho finito, butta il secchio! Quale? Quello del vetro! Facciami sul collo! Facciamoci un bel selfie! Ti sento ma non ti vedo che voglio l'autografo! Ma io la pulisco pure la bottiglia! Bravo! L'igiene prima di tutto! Non vengo disperso nell'ambiente, ma riutilizzato come materia che ritorna nel processo produttivo di nuovi beni! Ed eccola lì, fatta l'economia circolare! Testa! Circolare! Circolare! Il vetro non diventa mai rifiuto! Riciclare il vetro! Ciao! Ma andate via così! Senza neanche un bacio! Grazie! Lo sai che il vetro ha infinite vite? Il vetro è riciclabile al 100% e è la miglior soluzione di imballaggio per proteggere l'ambiente! E allora scegli il vetro! Ricicla il vetro! Ama il vetro! È all'infinito! È all'infinito! È all'infinito! Ricicla il vetro!